Bentornati all'appuntamento con voto in comune, l'approfondimento politico di MTV Canale 89 e Radio Nuova Macerata in vista dell'appuntamento del 12 giugno con le elezioni amministrative. Ospite con me in studio c'è per le elezioni di Civitanova Marche il candidato Dimitri Papiri per la lista Nova Urbs a sostegno di Paolo Maria Squadroni, candidato sindaco. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Una prima domanda per lei, una breve presentazione. Chi è e cosa fa? Io sono un impiegato, un disegnatore e faccio una vita piuttosto monotona. Nel 2017 si era già candidato come sindaco per le elezioni amministrative di Civitanova Marche. Ora si ripresenta per questa competizione elettorale, perché? Con quali obiettivi? Perché nel 2017 era iniziato un percorso che era quasi uno scherzo, salvo poi pensare che per amministrare qualcosa o qualcuno bisognasse conoscere qualcosa. Quindi ho iniziato a studiare un po' e quando ho capito, ho intuito che forse la regola di un ente pubblico è la non regola, cioè nessuna regola, allora questo mi ha affascinato. Cioè paradossalmente il vedere che davvero un ente pubblico è cento volte più luogo comune di un luogo comune da barra. A me mi ha affascinato, cioè se lei entra in un bar e sente dire rubano tutti. Poi uno vede dei provvedimenti assurdi in cui a quelli del bar bisognerebbe dire guardate, forse tutti e anche altri che vengono da fuori. Quindi diciamo che era un percorso che è iniziato nel 2017 con addirittura una proposta di incarico del sindaco, l'attuale sindaco, cioè quello che vinse le elezioni, che però rifiutai perché questo incarico retribuito prevedeva la possibilità di conoscere da dentro le dinamiche amministrative comunali. È stato revocato mezz'ora dopo. Cioè mezz'ora dopo diventava scomodo poter vedere, approfondire. E questo mi ha affascinato ancora di più. Cioè c'era da capire cosa, no? Perché dava fastidio un gretino che passasse lì ad approfondire cose. E quindi da lì io ho continuato questo percorso di piccolo approfondimento, grande approfondimento e adesso lo continuo con Paolo Squadroni. Dunque Nova Urbs, la lista all'interno della coalizione per Paolo Maria Squadroni insieme al lavoro in libertà e civiltà nuova, le tre liste. Che cosa rappresenta, quali valori anche per lei? Allora, io ho scelto loro, avendo avuto l'onore di essere contattato dai diversi, ho scelto loro perché loro, a differenza di altri, hanno impostato la cosa sull'umanità, che sembra una sciocchezza, ma è quello che manca davvero, ma dappertutto, in ogni ambito professionale, sociale. Quindi l'umanità, cioè prima viene la persona, sembra un luogo comune ma non lo è. E soprattutto hanno accettato, e questa è un'altra curiosità delle elezioni di civiltà nuova Marche, cioè hanno accettato senza remore due punti miei, io avevo una lista che non sono riuscito a completare, Cleos il Glorioso, che aveva due punti forti, ne aveva diversi, però diciamo due forti che inglobavano tutto. Uno era la regolarità contabile e amministrativa e uno è la salvaguardia e la bonifica di Civitanova Marche come ambiente, ma non come ambiente, anche qui luogo comune, come ambiente perché Civitanova Marche è la città più inquinata delle Marche. Civitanova Marche ha 346 siti contaminati sui 1100 della regione. Civitanova Marche è nella gestione dei siti contaminati nazionali prima e regionali poi, la prima città delle Marche. Le bonifiche sono obbligatorie per legge e nessuno parla delle bonifiche. Quindi c'era da tirare fuori questa cosa e c'era da capire perché nessuno parlasse di questo problema che sorprende anche lei, quindi forse non gliene hanno parlato mai. Sì, ne hanno parlato anche gli altri candidati, le volevo chiedere quindi come intende anche, come immagina questa azione di bonifica. Qui è più facile, premesso che è quasi impossibile tecnicamente, possibile ma diciamo non è una roba facile, ma è facile perché è obbligatorio per legge, è semplice semplice, cioè la legge nazionale, il testo unico ambientale, dice chiaramente che la bonifica è obbligatoria, fine, punto. Se non hai i soldi, te li dà la regione Marche e qui bisognerebbe approfondire quello che forse le avranno raccontato altri ragazzi, altri candidati di liste importanti, anche potenzialmente vincenti o il sindaco stesso. Le avranno parlato della filiera, la famosa filiera che c'è provincia, regione e città, cioè tutti dello stesso. Ecco, è curiosa questa filiera, perché è proprio la filiera che dovrebbe bonificare Civitanova Marche, perché la regione mette i soldi che Civitanova non ha, Civitanova mette la progettazione, inizia la progettazione, Paolo Maria Squadroni inizierebbe gli incarichi di progettazione per iniziare a bonificare quantomeno alcuni dei siti principali, perché c'è un'altra cosa non detta, tutti parlano dei fondi del PNRR, qualsiasi cosa lei dice e le dicono PNRR, c'è un problema piccolo così, che i fondi del PNRR per un comma inserito nel testo unico ambientale nel 2020 non possono essere elargiti in siti contaminati se non ci sono progetti di bonifica, Civitanova è tutta contaminata, quindi è un obbligo di legge, quindi qui non si discute, non è che c'è un candidato che può dire a me le bonifiche, forse non sai cosa sono, però è un obbligo di legge. I dati epidemiologici di Civitanova Marche sono gli stessi per alcune patologie del sistema urinario, io ho scelto Paolo Squadroni perché è un medico, a Civitanova da 30 anni ci sono medici che amministrano, direttamente e indirettamente e uno si dovrebbe chiedere, no ma amministrare un comune, forse è più indicato un commercialista, un avvocato, un ragioniere, un medico? Perché 30 anni di medici? Ci sono stati i sindaci medici? Tutti medici, quello da adesso diciamo che è un quasi medico perché il sindaco vero è un medico, però diciamo il vice sindaco è un medico, mettiamola così, però sono tutti medici dal comunque 30 anni, 25-30 anni, che è curioso perché adesso che un medico abbia tutto sto tempo, è curioso. Per la prima volta a me serviva un medico, perché serviva un medico? Perché i dati epidemiologici di quella città sono mostruosi, sono gli stessi di Priolo, Augusta, dove sono le raffinerie, dove sono, cioè a noi non c'è nulla. E quindi sarà il caso che qualcuno affronti questo tema perché c'è gente delle dammiaglie e San Male muore, cioè che non è uno scherzo. Dunque, riflessioni invece su questa campagna elettorale, questa competizione, come vedete fino a questo momento anche il confronto tra i sei candidati in corsa per Palazzo Sforza? Guardi, io ho seguito i primi tutti, adesso seguo un po' meno perché non parlano di nulla o quasi, cioè gliela spiego meglio perché se no sembrerebbe. Le faccio un esempio, Civitanova ha appena approvato in giunta, non in consiglio, un bilancio. Il bilancio è lo strumento che governa tutto, tutto passa da lì. Del bilancio non ha parlato nessuno, nessuno ne parla, nessuno chiede, nessuno domanda. Eppure tutti propongono, io faccio questo, io faccio quello. E come lo fai questo e quello? Se non sai neppure come funziona, dove comincia, che problemi ci stanno? perché da quel, ed è un altro punto importante che Paolo Maria Squadroni ha sposato senza remore, altri sono scappati, è che probabilmente in quel bilancio c'è un buco a 6 o 7 zeri e quel buco lì prima o poi esplode. Quando esplode il sindaco va a casa perché viene commissariato l'ente. Quindi io ho 5 anni che provo ad avere un dialogo con l'amministrazione a livelli diversi, prima informale, poi formale, poi formale no, poi come sottobosco, poi nulla. Nessuno parla di nulla. In questi confronti io mi aspettavo qualcosa di diretto, di concreto, cioè oltre a le visioni, i sogni, va benissimo, ma al sindaco scende qualcuno dovrebbe chiedere quello che ha fatto, ma non quello che ha fatto tre alberi, no, numeri, dati. Cioè se io esco dall'avere amministrato la città più grande della provincia non devo spiegare qualcosa a qualcuno, come è andata, cosa ho trovato, cosa lascio. Zero, nulla, niente. Uno fa un molo, uno fa tre ponti, uno fa… ma con chi rifai i ponti? Cioè il livello è assurdo e lo dice uno che non ne capisce nulla, perché io non votavo dal 95, sono tornato a votare nel 2017. E com'è stata la sua campagna elettorale fino a questo momento e come sarà in questi ultimissimi giorni? La mia, e questo un po' mi dispiace, scarsa, quasi nulla per problemi di lavoro. Lavoro sette giorni su sette, quindi… e i ragazzi, i ragazzi di Paolo Maria Squadroni hanno sopperito pure per me, quindi li ringrazio per questo. Però ecco, a me piace più la parte studio. Cioè io concepisco tutto questo con un'utopia che sarebbe la seguente. Cioè nessuno dovrebbe dare un santino a qualcuno, nessuno dovrebbe dire vota a me, nessuno… perché poi la vita in una città come quella tutti sanno tutto. Quando incontri la gente tutti sanno che il tizio prende gli appalti perché li prende, che tipo di corruzione c'è, che tipo… lo sanno tutti. E allora a che serve il santino, il cartellone? Se vuoi mi voti? Se no, no. Io ho passato il tempo che ho potuto, quel poco che c'avevo, a provare e nemmeno a capire. A provare e a capire. Perché se non provi a capire, se non provi a leggere… io ho letto oltre 30.000 atti di questa gente, ma se non leggi quelli non puoi poi andare a fare i bondi, i moli… Civitanova ormai è un porto in cui arriva chiunque a portare qualsiasi fregatura e a tornare a casa con un pezzo di fregatura. Ora, incidentalmente, quella fregatura è pagata con il dizionale IRPEF di sfigati come me. A me questo da noia e ciò sta su questo limite. Grazie dunque per questa intervista a Dimitri Papiri, candidato per Nuova Urbs, con Paolo Maria Squadroni, candidato sindaco a Civitanova Marche per elezioni del 12 giugno. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.